musica buongiorno a tutti ragazzi io sono Dave e bentornati con un nuovo tutorial di minecraft tutorial che faccio abbastanza grande richiesta perchè più di una persona mi ha chiesto di far vedere come fare una exor gate e come collegarla in questo caso userò il mio ponte di lava perchè credo sia la cosa più ovvia in tutta questa mappa quindi si andiamo a vedere come collegarlo alla exor gate in caso in cui non abbiate visto come creare il ponte in sé andate a vederlo adesso e altra si in caso in cui vi siate persi magari il video dove ho spiegato un po' le porte e non le porte andate a vedere anche questo adesso per favore così almeno evito di di dover spiegare cosa sia un exor gate eccetera eccetera allora molto semplicemente andiamo a prendiamoci un po' di spazio ma l'exor gate è una è abbastanza facile da creare scusate ho sbagliato il blocco è abbastanza facile da creare io la vedo come una specie di faccia mi è utile come cosa pensarla come una specie di faccia con gli occhi il naso e la bocca si sembra una cosa abbastanza stupida ma d'altro non è se non vi avvalete di questi trucchetti per ricordarvi meglio le strutture non andrete molto lontano no non è vero sono io che ho una memoria pessima le redstone torch vanno messe come avevo già fatto forse vedere in tutti i cubi in primo piano rispetto a voi quindi in questo caso così più una qua e una qua e la redstone come avevo già fatto vedere anche questa volta va messa ovunque tranne che qua in mezzo però va messa qua davanti perchè non qua in mezzo perchè come già detto dopo farebbe loop e non funzionerebbe il tutto non ricordatevi di collegare la... questo qua alla fine questo qua è un input non è altro che un input quindi colleghiamo il primo input quindi la password il selettore di password qua al primo cubetto dell'exor gate e il secondo andiamo a collegarlo all'altro capo del ponte sperando di avere una... una linkata abbastanza lunga di redstone perchè non sarebbe molto carino se dovessi usare un repeater perchè li odio ok eh devo usare un repeater invece mi sembra giusto va bene ok scusate un attimo anche allora qui va ok perfetto no vabbè no ma non serve ripetere effettivamente è abbastanza corto e ci arriva lo stesso allora dicevo una volta fatto ciò non andrà ancora la... il tutto perchè dovete ancora collegare questo al ponte in sé questo qua è la... il circuito di redstone che arriva direttamente da qua sotto ed è collegato appunto ai pistoni del ponte è collegato... no così è collegato frontalmente aspetta posso anche rispermiare di più collegato frontalmente farà funzionare il tutto quanto quindi come potete vedere il ponte funziona di qua di qua e... se ho fatto tutto giusto anche di qua sì... perfetto nota bene se... no forse no vediamo... non... questo non l'ho mai provato quindi voglio proprio vedere ma dovrebbe funzionare tranquillamente anche così e infatti di qua funziona anche se la password è sbagliata di la... sì beh una specie di... questa qua diciamo potrebbe essere l'entrata e quella lì l'uscita perchè... si entra solo se si sa la password giusta altrimenti non si entra in questo caso la password era... ehm... 1... 3 e 4 questa è la password giusta eh... sì però essendo quell'altra leva in giù questa qua deve essere in su è un... un concept abbastanza sbagliato diciamo per... per usare un extra gate senza la password si vedrebbe sicuramente molto... ok... ok morirò molto probabilmente non me ne frega niente eh... senza la password si vede molto bene come potete vedere qua appena smetto di prendere fuoco pioggia... perfetto stop pioggia... perfetto eh... come potete vedere si attiva si disattiva si attiva e si disattiva eh... ecco qua quindi questa era la nostra extra gate che effettivamente mancava su questo server un... qualcosa del genere e invece no eccolo qua ok sono un fallito va bene eh... niente ragazzi spero che questo tutorial sia stato comprensibile o di facile comprensione se preferite eh... lasciate un mi piace nel caso e niente grazie a tutti della visione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti